SONNY Voglio i dettagli. Abbiamo fatto l'amore. Pensi di rinunciare? Non ho avuto un'idea. Chi sei tu? Per me lei è una specie di psicologo. Come faccio a sapere che lei non è il diavolo? Non lo può sapere. Dammi un'altra possibilità. Era questa la tua possibilità. Io ho quasi ammazzato una persona per te. L'hai fatto per te. Ricordatelo sempre. Obblivi a tutti quelli che vengono qui a fare del male. No, solo alcuni. Sei un mostro. Diciamo che tu hai da mangiare ai mostri. C'è qualcosa di terribile in ognuno di noi. Chi non è costretto a scoprirlo è molto fortunato. I love you. I love you. I love you. питanze? 2 Ass Ali